Le abitudini alimentari delle persone, delle comunità cambiano nel tempo, a volte anche sotto l'influsso di mode, diciamo, o di curiosità e nuove conoscenze. Ultimamente è abbastanza diffuso il gusto del mangiare crudo. Mangiare crudo significa non sottoporre gli alimenti a un trattamento termico che spesso va a diminuire quelle che sono alcune concentrazioni di sostanze nutritive molto importanti come vitamine e sali minerali. Mangiare crudo però può essere più rischioso per la possibilità di trasmissione di alcune malattie che sono portate da germi o da parassiti che con il trattamento della cottura vengono annullati. Per quanto riguarda la carne, il consumo della carne è importante che non avvenga come carne cruda se parliamo di carne macinata. L'hamburger, il macinato, è necessario che sia cotto completamente, proprio per evitare che ci siano delle patologie con delle forme intestinali o gastrointestinali che possono essere più o meno gravi a seconda dell'età della persona o di quanto essa è debilitata. Un altro alimento che abbiamo imparato ad apprezzare crudo sulle nostre tavole è il pesce. Occorre però, è assolutamente indispensabile, usare un accorgimento particolare che è quello di congelarlo prima del consumo. Questo perché? Perché molto frequentemente può essere invaso da parassiti che si chiamano anisakis, che sono neanche nei nostri mari e che non sempre sono facilmente visibili. Il fatto di averlo congelato e poi decongelato prima del consumo garantisce l'assoluta attenuazione del problema, anzi la vera e propria uccisione del parassita. Cosa che dobbiamo fare quindi? Chiedere al ristoratore e al pescivendolo se il pesce che abbiamo acquistato ha avuto questo trattamento di congelamento a meno 20 gradi per almeno 24 ore. Se invece lo prepariamo in casa e il nostro freezer di casa non raggiunge la temperatura dei meno 20 dovremmo tenerlo a congelare per un numero di ore superiore. Un altro alimento molto importante nella nostra dieta è il latte. Esiste la possibilità di acquistare e di trovare rivenditi o distributori di latte crudo. È giusto che noi ci approvvigioniamo di questo alimento di altissima qualità è però molto importante sapere che è opportuno bollirlo prima di consumarlo. Ancora possiamo parlare delle uova. È importante usare alcuni accorgimenti quando si utilizza l'uovo perché il guscio può essere contaminato e quindi è necessario che sia velocemente allontanato dal piano di lavoro e lavarsi le mani prima di continuare la lavorazione della nostra specialità.